ed ecco riprendo il mio piccolo video precedente e mi trovo appunto come abbiamo detto sul santuario della madonna di monte lussari vedete il panorama qui siamo proprio alla chiesa ed ecco l'entrata appunto della chiesa ma naturalmente non sono solo perché con me c'è anche mia sorella ida ecco allora un saluto sei contenta oggi di essere venuta molto molto questo santuario della madonna dei monte lussari è che c'è fresco siamo un'altitudine come detto di 1750 metri ecco da qui da questo luogo mentre ci prepariamo entrare in chiesa a celebrare la santa messa alle ore 12 insieme con padre peter ecco vogliamo un saluto saluto a tutti voi anche anche a tutti gli amici di verona di l'asi ecco siamo entrati in chiesa c'è un clima di silenzio di raccolimento e siamo proprio davanti all'altare e alla statua la piccola statuina della madonna di monte lussari maria madre della chiesa prega per noi maria madre della chiesa prega per noi maria madre della chiesa prega per noi E qui tutti gli ex voto dietro all'altare. E qui tutti gli ex voto dietro all'altare. E qui tutti gli ex voto dietro all'altare. E da questa bellissima giornata, dal santuario della Madonna di Monte Lussari, in questo 23 luglio, nella festa di Santa Brigida, compatrona d'Europa, insieme con mia sorella Ida, ecco qui che vi state vedendo. Vi salutiamo, ecco un saluto carissimo a tutti voi. Buona giornata e buona conclusione del mese di luglio. Ciao.